buona giornata amici da massimo foghetti oggi è sabato 2 aprile 2022 apriamo la nostra rassegna stampa questa mattina con una nuova impostazione scenografica quindi ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a cambiare questo ambiente per renderlo più funzionale e gradevole per voi spettatori cominciamo subito con il santo del giorno vediamo che oggi si festeggia un santo piuttosto noto perché san francesco da paola a fano esiste una chiesa purtroppo sconsacrata dedicata a questo santo nei pressi della stazione ferroviaria una chiesa che ormai è stata trasformata completamente trasformata ad usi commerciali ad usi lavorativi comunque esiste il bellissimo campo campanile che rimane un elemento inconfondibile nel panorama cittadino san francesco da paola condusse una vita eremitica abitando in una grotta dormendo sulla nuda terra vestiva con un sacco grossolano fin da giovanissimo quando poi lo raggiunsero altre persone edificò una chiesa e un monastero nei pressi di paola ponendo le fondamenta dell'ordine dei minimi così chiamati a proprio perché coltivavano in modo molto molto severo l'umiltà francesco compì molti prodigi e fu molto amato anche da luigi undicesimo re di francia e il suo miracolo più famoso fu l'attraversamento dello stretto di messina in piedi sul suo mantello questo per questo è stato nominato patrono della gente di mare san francesco da paola dunque e veniamo ora le previsioni del tempo vediamo la grafica il tempo comincia un pochino a migliorare dopo le perturbazioni dei giorni scorsi comunque perturbazioni leggere perturbazioni primaverili e vediamo che le nubi stanno cedendo un po il posto a delle schiarite tempo dunque instabile con piogge intermittenti alternate ad ampie schiarite specie nella mattinata però insomma nella notte c'è stato anche pioggia piogge in modo particolare sulle alture i venti spireranno sulle coste da una direzione di ovest e sud ovest mentre all'interno da sud ovest le temperature si aggireranno dai 6 agli 11 gradi sono in calo rispetto ai giorni scorsi apriamo dunque il giornale a partire dal corriere adriatico sulla pagina fanese vediamo che l'apertura è dedicata all'arredo di piazza marcolini ridisegnato questo arredo dopo le verifiche che sono state effettuate sulla salute dei lecci che attualmente si trovano sulla piazza resteranno soltanto cinque lecci ridisegnata piazza marcolini altri tre alberi giovani saranno espiantati e sistemati altrove ed è stata l'assessore barbara brunori ad illustrare ieri le novità per l'arredo di questa piazza per l'assessora nascerà in centro un luogo bello fruibile e distintivo della città e vediamo qui anche un nuovo rendering della piazza così come apparirà dopo il restauro comunque non mancano le polemiche per la città di fano le opere compensative si facciano a carrara e non nel centro urbano di fano hanno così chiesto gli abitanti di questa frazione perché a carrara si installerà la centrale che dovrà trasformare la corrente alternata in continua o viceversa e quindi è carrara che deve essere beneficata dalle opere compensative carrara ha subito non poche aggressioni di carattere ambientale negli ultimi tempi ricordiamo soprattutto la discarica abusiva che è stata impiantata nella cava solazzi summer school per vitruvio la cultura è il volano del turismo e ieri c'è stata la presentazione dell'attività del centro studi vitruviani due iniziative molto importanti per quest'anno ovvero la pubblicazione del primo numero della rivista vitruvius in cui scriveranno in cui pubblicheranno i loro articoli gli studiosi più noti più importanti a livello europeo del noto architetto romano e poi la summer school un corso di specializzazione organizzato dalla università di urbino ieri c'era anche il magnifico rettore giorgio calcagnini a presentare l'iniziativa insieme al sindaco insieme al direttore scientifico del centro studi vitruviani oscar mei insieme al presidente dino zachilli insomma a presentare questa iniziativa molto molto importante perché attirerà a fano alcuni dottorandi di ricerca insomma cercherà di puntualizzare gli studi su tutto ciò che vitruvio rappresenta rappresentato dal medioevo in poi a rinascimento al neoclassicismo per quanto riguarda l'architettura ma anche tante altre branche del sapere umano questo questa summer school si terrà a fano dal 27 giugno all'8 luglio prossimo si terrà nella sede dei fano ateneo a palazzo san michele il sindaco ora disattende le promesse degli esercenti ed è un intervento del consigliere regionale luca serfilippi contro la bocciatura dell'istanza presentata dalla lega in consiglio comunale affinché si riducessero le tasse ai commercianti le tasse di occupazione del suolo pubblico qualcosa si farà ma non si potrà fare più di tanto ha detto l'assessore al turismo e al commercio lucarelli ferrovia il partito democratico tuona è assurdo l'arretramento solo per pesaro è una presa di posizione condivisa anche dalla regione marche condivisa anche dal comune di pesaro ed ora il pd di fano tramite il suo segretario della dora e il suo capogruppo in consiglio comunale giacomoni chiedono alla regione il pressing sul governo per proseguire a sud ma la regione sembra già propensa a seguire questo questa pista e poi vediamo un caso di ordine pubblico un caso che si è discusso in questi giorni l'imputato è irreperibile processo sospeso si tratta di un'udienza che si è stabilita di fronte alle tribunali di pesaro un'udienza per ricettazione è stata aggiornata al 2023 e si rischia la prescrizione perché l'imputato è irreperibile ed è questo l'esito di una utile inchiesta che è stata effettuata dalla polizia fanese che ha individuato un furgone pieno di refurtiva c'erano tantissime cose in questo furgone c'erano luci di natale un albero natalizio smerregliatrici saldatrici trapani un macete addirittura uno spruzzino per pulire i cerchioni delle ruote una stufa a gas insomma veramente cose di poco conto ma cose anche di un certo valore per quanto riguarda Fossombrone ci sono critiche si cerca di smorzare anche un po' gli entusiasmi che sono stati sollevati dalla visita del presidente della regione Acquaroli nell'ospedale di Fossombrone e c'è una stilettata di Fabio Londei che ovviamente rappresenta l'opposizione è stato un incontro falso al dichiarato Londei il consigliere di prima Fossombrone ci si accontenta di un misero cronicario si vorrebbe molto di più per quanto riguarda invece le esigenze da soddisfare della comunità di Fossombrone e poi torniamo a Fano perché ieri si è svolto un incontro utile nel nuovo centro civico di Gimarra un incontro con tutti gli ospiti che giungono dall'Ucraina appunto nella città fanese li ha incontrati il sindaco che ha detto ai profughi Fano è casa vostra un incontro che è stato organizzato dal comune e sono stati presenti 150 persone un pomeriggio dunque trascorso all'insegno dell'amicizia e della fratellanza speriamo che queste dichiarazioni di principio si trasformino anche in atti concreti di solidarietà vediamo a Senigallia stop alle bottiglie di vetro in by night sul lungomare e nel centro storico insomma si predispone anche un programma di tutela della sicurezza perché le vacanze a Senigallia anche nelle altre ovviamente località balneari della nostra regione si svolgono in tranquillità la giunta sta studiando le misure anti caos in vista della bella stagione da decidere comunque rimangono orari e divieti per i bar in spiaggia e vediamo qui l'articolo che appunto correda la pagina di Senigallia ora giriamo il giornale il Corriere Adriatico e giungiamo alla pagina di Pesaro per sfuggire ai rincari famiglie nella trappola dei contratti capestro ebbene è ufficialmente entrato in vigore da ieri il bonus bollette fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile avere più sconti ma la misura non vale per tutti a contare infatti è l'ISEE finora il governo aveva riconosciuto il sostegno che aveva l'indice fino a 8.265 euro mentre ora la soglia è stata alzata fino a 12.000 soprattutto per i pensionati e le famiglie monoreddito si tratta di un aiuto che è utilizzabile sia per chi ha un contratto con il mercato libero per quanto riguarda l'energia elettrica sia per chi ha un servizio elettrico nazionale ovvero in regime tutelato comunque i contributi potranno essere ricevuti sia dagli uni che dagli altri comunque fare quadrare i prezzi e incassi per i baristi è vero rompicapo qui abbiamo un altro articolo che solleva il problema e in questa pagina c'è uno stilicidio di rincari che si ripercuotono su colazioni, stuzzichini e aperitivi insomma i servizi più richiesti dagli avventori dei bar una gestione anomala e previsioni arbitrarie è convocato il vertice ATA si parla di gestione dei rifiuti la regione conferma che ci sono state criticità nella provincia di Pesaro Urbino per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti l'assessore Aguzzi, Paolini e Ranocchi Paolini è presidente dell'ATA Ranocchi, ne è il direttore si giustificano con gli alti costi degli impianti il fatto che hanno autorizzato l'ingresso nelle discariche di rifiuti che giungevano da fuori una gestione ambientale irregolare con il riempimento delle discariche tramite gli scarti industriali provenienti da fuori regioni insomma un atto che fa discutere e poi vediamo ancora il retroscena di quello che sta accadendo sulle dimissioni dell'ex primario del pronto soccorso di Marche Nord Gnudi ebbene qui abbiamo una foto emblematica vedete tutti questi occhi che appaiono in questa tabella sono gli occhi dei medici degli infermieri che hanno affrontato la pandemia sono i colleghi del dottore Umberto Gnudi che è ritratto al centro e vi sfido appunto a individuare gli occhi di questo di questo dottore così amato e così magari insomma non dico odiato ma insomma trattato in un modo diverso da un'altra parte dove non è riuscita la pandemia la più grande tragedia collettiva che abbia colpito il paese dal dopoguerra è riuscita l'azienda Marche Nord dice il giornale dopo aver retto per due anni alla guida del pronto soccorso la terribile forza d'urto uno dei focolai territoriali di infezioni più virulenti d'italia con rare capacità e abnegazione che gli vengono riconosciuto innanzitutto dai colleghi l'ex direttore Umberto Gnudi proprio nel compimento del ventesimo anno sull'emergenza urgenza della sanità pubblica ha lasciato il servizio per l'insoddisfacente relazione con la direzione aziendale insomma un incipit di questo articolo che la dice lunga per quanto riguarda poi le reazioni che ha suscitato questa decisione una decisione che viene contestata sia a livello politico sia a livello solidale da parte di colleghi ma anche di degenti e poi vediamo per quanto riguarda la cronaca lo spaccio della droga il pusher ci ricasca ancora scende dal treno e viene arrestato un ventunenne è stato sorpreso in stazione con la droga da cedere ed è la seconda volta in due mesi per il San Benedetto e il centro storico arriva la prima tranche del Pinqua il Pinqua sappiamo è un finanziamento statale che permette la ristrutturazione degli immobili si tratta di un conto di 3 milioni di euro ora però bisogna correre per i progetti tocca Elmur fate presto da appunto a impiegare questi soldi sulla pagina di Urbino per l'occupazione suolo pubblico l'esenzione sarà fino al 30 giugno l'atto sarà approvato dalla Giunta ebbene un aiuto ai commercianti che possono usufruire di spazi pubblici pubblici a prezzo ridotto ascoltata la richiesta di Egidio Cecchini che è segretario della Confcommercio appunto si parla di proroga per l'esenzione del pagamento della tassa di occupazione che permette appunto di servire più clienti a un prezzo ridotto a una tassa ridotta chiudiamo ora il Corriere Adriatico apriamo il resto delle Carlino e troviamo veramente un articolo bello un articolo bello perché si parla di bellezza la bellezza ritrovata è la grande fotonotizia che appare in prima pagina sul giornale di Pesaro la bellezza ritrovata e vediamo qual è questa bellezza vediamo delle bellissime fotografie scattate all'interno di Palazzo Perticari quel palazzo nel corso di Pesaro che è stato circondato da ingabbiature per tanti anni Palazzo Perticari viaggio nella bellezza signoretti il sogno si sta avverando lavori ormai al traguardo sono giunti al traguardo l'imprenditore mecenate che sta realizzando questo grande progetto farà della residenza lungo il corso un paradiso per gli studiosi dell'arte il piano terra per le iniziative pubbliche e poi salendo i piani una biblioteca con circa 50.000 volumi e una foresteria ci sarà anche un ristorante vedete come sono belli questi ambienti affrescati qui abbiamo un soffitto con credo l'aurora che sale verso il cielo vedete come era una volta prima del restauro veramente in situazioni indescrivibili ma poi qua abbiamo anche altri ambienti abbiamo dei bellissimi soffitti e poi ancora freschi alle pareti e così vedete come è stato realizzato il tetto rispetto a quello che era prima vedete come i restauratori sono riusciti a cambiare proprio le vediamo qui entrambe le foto che sono state appaiate come sono riusciti a cambiare l'ambiente rendendolo veramente bello da vedere e giusto da fruire ora il dottor gnudi è un caso politico lo corteggia tutto l'arco costituzionale all'ex primario del pronto soccorso proposte bipartisan di discesa in campo ne vogliono fare un caso politico ma ovviamente il medico ci penserà due volte il sit-in del PD lusingato ma niente strumentalizzazioni dice il dottore lusingato anche ovviamente per il clima di solidarietà che si è creato attorno a lui dopo il trattamento subito da Marche Nord ma l'assessore Saltamartini c'è stato davvero all'ospedale dice una lettrice che racconta una esperienza diversa insomma anche qualche distingo da quello che è apparso nei giorni scorsi dei giornali così abbiamo salvato una mamma che rischiava di partorire in piscina e veramente questo è un caso eccezionale si tratta della signora Chiara Fabri di Sport Village la quale racconta un drammatico episodio agli etofine al Parco della Pace attivati i soccorsi interni e il 118 la ragazza ha dato la luce a una bellissima bimba all'ospedale di Fano è uscita dall'acqua proprio nel momento in cui ha avvertito i segni premonitori del prossimo urgente parto insomma e subito sono stati attivati tutte le operazioni di soccorso è scattato il protocollo con il 118 dopo il parto ci ha detto di essere stravolta poverina ma tanto tanto felice la trentenne pesarese si accorta dei segnali inequivocabili all'uscita della vasca e ha dato appunto l'allarme per fortuna tutto si è concluso molto molto bene ed ha un bimbo che sta per nascere un ragazzo nato che purtroppo è costretto a subire delle esperienze molto molto traumatiche ed è un bambino ucraino il tema di Pavel il bimbo con il cuore in Ucraina mia nonna non fugge vuole morire lì ha detto ha 12 anni è nato a Pesaro ma ha le radici in una località ucraina che si chiama Dmitry Vkap insomma i nomi ucraini sono veramente difficili a pronunciarsi ovviamente per noi non per loro dove vivono i suoi parenti nel suo scritto cita Quasimodo e la Costituzione quindi è italiano per quanto riguarda insomma la sua cultura ma il suo cuore il suo sentimento è nel suo paese di origine appunto dei suoi genitori alle liceo Marconi una tonnellata di solidarietà tanto peso la raccolta di viveri di altri beni destinati ai bisognosi e ai profughi svolta dagli studenti insieme al Banco Alimentare e diamo un'occhiata ora anche alla pagina di Fano dove l'articolo di apertura è dedicato alle proteste dei residenti di Carrara per quanto riguarda la richiesta di opere compensative che compensino i disagi che gli abitanti hanno dovuto sopportare per l'attività della centrale elettrica che è appunto in funzione nella loro frazione e poi per tutto quanto riguarda la discarica abusiva della Cava Solazzi chiedono al sindaco che le opere compensative vengano realizzate a Carrara e non in altre situazioni si parla anche di Piazza Marcolini sul resto del Carlino e vediamo qui delle fotografie interessanti in questo caso vediamo la cisterna che è stata scoperta durante appunto i rilievi che sono stati fatti nella piazza una cisterna per la conservazione dell'acqua piovana di cui appunto si è dovuto tenere conto per rivisitare il progetto e qui il rendering dell'aspetto finale della piazza con i cinque leggi che sopravviveranno appunto al nuovo arredo e le aiuole oltre a una piccola fontana con la stele che era nei palazzi scusate nei giardini di Piazza Amiani Vitruvio non va in vacanza debutta la Summer School un corso aperto a studenti laureati italiani e stranieri dal 27 giugno all'8 luglio a Palazzo San Michele in collaborazione con l'Ateneo di Urbino e spuntano anche nuove ipotesi sulla Basilica nuove ipotesi che verranno pubblicate le hanno formulate le ha formulate il professor Oscar May che fa archeologo ed è docente delle università ad Urbino nuove ipotesi che saranno pubblicate nel primo numero della rivista del centro studi Vitruviani Vitruvius che apparirà nel mese di maggio appunto alla stampa e poi vediamo la richiesta di una insegnante del Polo 3 di Fano chiede giustizia per Hub ovvero il suo compagno per ottenerla andrò fino alla corte di Strasburgo è la battaglia di Gioia Bucarelli insegnante a Fano tre anni fa il suo compagno morì travolto dal rimorchio sganciatosi da un camion da tre anni si sente come sospesa questa donna in un limbo in un limbo di dolore è una donna che cerca disperatamente e al momento purtroppo inutilmente cerca giustizia per il suo compagno morto vittima appunto della strada e del lavoro giovedì pomeriggio questa vedova ha visto morire per la seconda volta il suo uomo quando la GIP Sonia Piermartini del Tribunale di Ancona ha colto l'archiviazione presentata dal PM Marco Pucilli per i titolari della società proprietaria del rimorchio che ha causato la morte del suo uomo e poi vediamo la ferrovia il comitato tifa per l'arretramento i cittadini di Marotta contestano la realizzazione delle barriere antirumore costano 30 milioni meno che spostare le rotaie insomma si tratta di attuare più lo spostamento e poi Pergola ha premiato ai suoi angeli del covid una cerimonia simbolica in comune per ringraziare i tanti volontari che si sono spesi durante la pandemia ed ora apriamo anche la pagina dello sport vediamo che la vis è un po' arrabbiata per quanto riguarda gli ultimi risultati ottenuti l'allenatore Banchini e la gara di domani alle 14.30 con il Montevarchi fare bene la fase di non possesso è quella di costruzione senza intercetti sono le direttive appunto che Banchini ha rivolto ai suoi giocatori giocatori stanchi non la vedo in questo modo ha dichiarato il tecnico non è possibile scindere la parte fisica da quella mentale insomma deve essere un connubio di forze fisiche e mentali e veniamo anche la pagina che riguarda Fano Aurora fanalino di speranza per il Fano Aurora è un fanalino di coda insomma è un pochino più dietro del Fano ma entrambe le squadre non se la passano affatto bene domani al Mancini la cenerentola del Girone che ha fatto piazza pulita degli over e ha rialzato la testa con i suoi giovani cerca disperatamente di risalire la china così come il Fano e sarà un bel incontro insomma due squadre che se la disputano a pari merito e poi il basket VL la lezione di coach banchi con Tortona serve una gara solida l'analisi della partita di domani in attacco saranno attivate le finalizzazioni diverse troviamo le risorse ha dichiarato il tecnico e con questo concludiamo la nostra rassegna stampa vi auguro un buon fine settimana noi ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 7 intanto vi auguro un buon weekend a risentirci